Il 17 gennaio 1962 viene al mondo uno dei più grandi artisti del panorama cinematografico mondiale. Stiamo parlando di Jim Carrey e benvenuti in questo nuovo podcast. Jim Carrey è un attore che io personalmente definisco come un clown incompiuto. Lui all'inizio della sua carriera, quando era entrato in quella bolgia che noi comunemente chiamiamo Hollywood, disse che era entrato ad Hollywood per sabotarla dall'interno. In realtà nel corso del tempo vedremo come sarà Hollywood stessa a sabotare mentalmente e a livello umano ed emotivo proprio lo stesso Jim Carrey. Jim Carrey è un attore dalle due facce, facce da film drammatici strepitosi e facce da film veramente terribili, che comunemente, anzi letteralmente, definirei delle vere e proprie merde. Questi film possono collegarsi soprattutto alla seconda parte della sua carriera fino ad arrivare ai giorni nostri e poi vedremo perché anche c'è stata questa sorta di involuzione per quanto riguarda quest'attore. Uno dei film peggiori è sicuramente uno degli ultimi, dove interpreta questo ruolo in un film dedicato a Sonic, il famoso videogioco del riccio super veloce e questo film è veramente di una bruttezza colossale. Tant'è vero che dovrebbe sicuramente vincere, o non so se l'ha vinto, un Razzie Award, cioè l'opposto degli Oscar, dei film peggiori dell'anno. Jim Carrey però è un uomo dalle due facce, molto spesso i suoi film sono stati demenziali, con una comicità non tanto ricercata, è famosissima la sua interpretazione per il ruolo di Ace Ventura che io non riesco a stimare completamente, anzi credo che ci siano sì dei momenti iconici per quanto riguarda la carriera dell'attore ma che porta con sé delle scorie molto ma molto negative. Questa saga che si è portata per tanto tempo ma che sicuramente non ha dato lustro a quello che era il vero talento di Jim Carrey, ovvero la drammaticità. Bello ricordare alcuni film, soprattutto per gli anni 90 che sono stati i suoi anni d'oro, come per esempio anche Bugiardo Bugiardo, ma che non ha avuto, diciamo così, un successo sì per quanto riguardava il bottiglino ma non ha avuto un successo, diciamo così, nell'immaginario collettivo della gente che ha ammirato Jim Carrey. Jim Carrey ha portato avanti ruoli iconici e il termine iconico è davvero molto importante quando si parla di Jim Carrey. L'uomo di gomma veniva definito e le imitazioni che fa ai Golden Globe quando imita Clint Eastwood e Robert De Niro sono veramente straordinarie, facciano vedere una plasticità del suo viso che è veramente irricercabile, è introvabile in tantissimi altri attori che hanno comunque seguito le sue stesse orme per quanto riguarda la comicità. Però i film demenziali che ha portato avanti sono stati terribili e ricordavamo, ecco, il termine iconico che si ripete perché il ruolo del Grinch che viene portato per la prima volta al cinema appartiene proprio a Jim Carrey che gli dona le movenze e il Grinch è un personaggio straordinario, questa invenzione che viene fatta dal dottor Soys di questo essere che odia il Natale per dei motivi specifici, per una sorta di trauma che aveva portato dietro con sé si manifestano all'interno della pellicola e Jim Carrey non fa altro che migliorare esponenzialmente quel ruolo. Poi c'è sicuramente un ruolo che molti ricordiamo ed è Una settimana da Dio, il personaggio di Bruce. La vita è un biscotto ma se piove si scioglie, l'abbiamo detto e ridetto in tutte le salse. Anche se molto spesso quello che noi ricordiamo di Una settimana da Dio è che Morgan Freeman interpretava la figura celestiale a cui noi facciamo riferimento nella vita di tutti i giorni. E quindi è quello il primo pensiero che vede a fare. C'è anche Jennifer Aniston ovviamente all'interno della pellicola, un'altra attrice straordinaria. Jim Carrey, ecco, io lo definirei, come avevo detto all'inizio, proprio un clown incompleto perché ricerca, 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 ma poi scadeva quasi sempre nel demenziale. Come The Mask, è un film ok, bello, bello per chi lo guarda con gli occhi di un bambino, spumeggiante, fantastico, ok. E poi? E poi non c'è niente a livello di sostanza dal punto di vista recitativo per quanto riguarda Jim Carrey. I più grandi lavori di Jim Carrey sono tre. E sono tre, punto e basta. E mi dispiace dirlo, neanche nell'edizione cinematografica di una serie sfortunata di eventi dove lui interpreta il conte Olaf riesce a trascinarmi fino in fondo. Nonostante, ripeto, la sua plasticità fisica ed emotiva sia eccezionale, fuori dal comune, non riesce a portarmi con c'è all'interno della pellicola. E i tre grandi aspetti di Jim Carrey, i tre grandi film di Jim Carrey sono Eternal Sunshine of Spotless Mind dove all'interno del cast troviamo Cain Weaslet, Mark Ruffalo, Elijah Wood. Elijah Wood è il nostro carissimo Frodo Baggins per essere molto, molto schietti e far capire immediatamente di chi stiamo parlando. Ecco, Eternal Sunshine of Spotless Mind che ha avuto una pubblicità negativa in Italia perché il titolo del film è della traduzione che non rispecchia effettivamente ciò che succede all'interno della pellicola e se mi lasci ti cancello. Eternal Sunshine of Spotless Mind ci fa vedere un Jim Carrey a livello drammatico esemplare, perfetto forse in tantissimi frame della pellicola. E questo film che è scritto da Dio fa, diciamo così, barba e shampoo, barba e capelli a tutta la serie di Black Mirror perché questo è ciò che anticipa Black Mirror, lo schermo nero che ci rovinerà la vita, ovvero i cambiamenti, il dimenticarsi di qualcuno a causa di una forza maggiore, a causa della tecnologia. Sicuramente è il primo film che dovete vedere se amate Jim Carrey sotto il lato comico, sotto il lato demenziale. Ecco, qui vi fa capire che è un vero attore di livello strepitoso. Un altro film che sicuramente fa parte della storia di Jim Carrey, da cui consiglio di vedere anche la serie su Netflix che si chiama Jim e Andy. Jim è lui, Jim Carrey, persona, fisica. Andy invece è il personaggio che interpretava in Man of the Moon. E lì abbiamo perfettamente il vero Jim Carrey, l'adattamento, il modo in cui lavorava sul set. Forse non l'ha mai fatto nessuno in una maniera così metodica, altro che metodo Strasberg e quant'altro. Lui non era più Jim quando era sul set, diventava Andy anche dietro le quinte. E il modo in cui è stato realizzato, il dietro le quinte, questo set che era mobile e si può vedere comunque nel documentario Netflix che, ripeto, si chiama Jim and Andy, andatelo a vedere perché lascia veramente un'impronta di quello che Jim Carrey doveva essere per l'intero arco della sua carriera e che pian pianino si è andato spegnendo. Ma il film sicuramente che porta con sé anche i premi che poi, meritatissimi, si porta a casa lo stesso Jim è The Truman Show. Allora, The Truman Show è il grande fratello. È il grande fratello di George Orwell visto però dagli occhi di una persona sola. Cioè tutto il mondo si concentra su Truman, questo ragazzo che è nato e cresciuto all'interno di un reality show. e fino a una certa età non si era neanche accorto di vivere una vita assurda con, fanno tantissimo ridere, le parti pubblicitarie. Ecco qui, anche qui, Black Mirror insegue qualcosa che già esisteva. Questa non deve essere una critica alla famosissima serie britannica ma già esistevano determinate cose e hanno influito sicuramente sul modus operandi, sul modus scrivendi delle opere successive della serie televisiva. The Truman Show è un'opera perfetta sotto tantissimi aspetti. Può rallentare sotto alcuni profili ma li vediamo Jim Carrey nella sua interpretazione migliore. Purtroppo non riesco a trovare altre pellicole dove Jim Carrey riesca a suscitare verso, nei confronti del pubblico, ecco, una empatia tale da portarci dentro la pellicola con lui. Cosa intendo? Che negli spettacoli demenziali sì, ci fa ridere, ci tiene compagnia, soprattutto quando eravamo bambini. Ma visti in un'ottica diversa, in un'ottica più matura, sicuramente non ci lasciano granché. E qual è il problema effettivo dell'involuzione di Jim Carrey dopo gli anni 90? Ok, anche lui, come dicevamo nel podcast precedente, che vi consiglio di ascoltare, come Robin Williams, soffre la depressione. Ma c'è un evento, un evento molto, molto particolare, che avviene nel 2015. Quando la sua ex, con cui aveva avuto un rapporto combattuto per tre anni, Catrona White, muore e vengono trovate delle pasticche a casa di lei, Jim Carrey collassa definitivamente. C'è un'intervista bellissima, molto intima, che viene fatta al David Letterman Show, dove lui si presenta con questo barbone incredibile, veramente pochi mesi o forse appena un anno dopo la morte dell'ex fidanzata. C'ha questo barbone, capelli lunghi, lontano dal Jim Carrey viso pulito, col viso che poi diventava anche la sua stessa gomma con cui non cancellava, ma dipingeva le sue opere, le sue imitazioni. Ecco, lui dirà una frase, che è una frase un po' facilona, forse, per chi l'ascolta fuori contesto, ma che vuol dire tanto. Io non capisco, dirà Jim Carrey, perché continuo a rasarmi le palle e invece la barba no. Ecco, fuori contesto sembra una frase facilona, demenziale, invece no, fa parte di un'intimità ancora più grande all'interno di tutto ciò. Sussiterà ovviamente una risata all'interno degli studi di Letterman, però io consiglio quest'intervista perché è veramente una chiacchierata molto, ma molto intima. Per quanto riguarda i doppiatori, quindi questo è il motivo per cui Jim Carrey magari avrà una sorta di collasso emotivo, e si avvicinerà sempre di più alla depressione. Facciamoci caso, sicuramente l'artista hollywoodiano, molto spesso, seppur Jim Carrey diceva che voleva sabotarla dall'interno, lo ricordo, finisce per essere soggiogato da ciò che lo circonda. Jim Carrey in italiano era doppiato solitamente da Roberto Pedicini. Eccezione fatta, Roberto Pedicini lo interpretava nelle opere drammatiche, lo doppiava nelle opere drammatiche. Eccezione fatta che per The Mask, Una settimana da Dio, scemo più scemo credo è Sventura, è doppiato da Tonino Accolla. Tonino Accolla è lo storico doppiatore di Homer Simpson, tra gli altri, anche Timon, soprattutto per quanto riguarda i cartoni animati, ma credo che l'impronta corretta delle interpretazioni di Jim Carrey, soprattutto quando lui veramente diventa parte integrante del film e crea quella sorta di empatia che spesso andrebbe ricercata da tutti gli attori e poi definitivamente trovata, avviene per l'appunto con Roberto Pedicini. Roberto Pedicini fa un lavoro strepitoso su questa voce calda che poi ha Roberto Pedicini che è il doppiatore, fa un po' ridere con questa voce caldissima, lui è il doppiatore di Gatto Silvestro per quanto riguarda i Looney Tunes e di Pippo per quanto riguarda la Disney. E qui Jim Carrey, sul voto di Jim Carrey, io dico che sta benissimo. Mi piace anche ricordare un momento di Jim Carrey quando impazzisce agli Oscar nell'anno in cui lui non viene candidato come miglior attore e quell'anno c'era Roberto Benigni che poi vincerà tra l'altro addirittura l'Oscar come miglior attore protagonista nella Vita è Bella. Jim Carrey diceva, vabbè non vi preoccupate se non mi avete candidato, avete voluto candidare Roberto Benigni e lui lo fa con una performance bellissima perché sarà uno di coloro che premierà gli altri, uno di coloro che aprirà la busta durante quell'anno. Tra l'altro credo che lui sia presente in quel momento lì ad aprire la busta proprio perché l'anno prima aveva vinto un premio Oscar non come miglior attore ma sempre in riferimento a The Truman Show. Il Golden Globe, lui non ha vinto premio Oscar, era stato candidato, lui non ha vinto premio Oscar e poi ha vinto il Golden Globe per Man on the Moon che è l'opera madre della recitazione di Jim Carrey e poi per The Truman Show. Jim Carrey era semplicemente questo, un clown incompleto perché molto spesso scadeva nella demenzialità, nonostante ciò io stimo da morire perché il film come il Grinch, una settimana da Dio, è in sventura poco, poi scemo più scemo, Sonic lo detesto, bugiardo bugiardo e anche Io, me e Irene è un film molto interessante con le sue interpretazioni. Ecco lo stimo a metà Jim Carrey perché ha dato tanto ma purtroppo non è riuscito a dare di più. E se per caso non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.